Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Questa domenica celebriamo la solennità del battesimo del Signore. Una solennità particolare. Questo episodio è un episodio rivelatorio che ci dice tante cose su Gesù. Tra le tante noi ne prenderemo due, ma giusto per darvi un'idea, pensate, il battesimo di Gesù non è solo l'inizio della sua missione pubblica, ma è anche una scena che ci dice lo stile di Gesù, che si fa solidale con l'umanità, con noi uomini, facendosi uno vicino, prossimo, solidale con l'umanità caduta nel peccato per risollevarla. Ci dice il cuore della missione di Cristo nel suo immergersi e risalire dalle acque che simboleggia la sua morte e risurrezione per la nostra salvezza. Ci dice chi sia Gesù attraverso le parole del Padre, questo è il figlio mio l'amato. Ci svela in nuce il mistero della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti e tre presenti sulla scena. Insomma, tanti sarebbero gli spunti. Questo testo ci dà davvero tante chiavi con le quali entrare nel Vangelo. Noi, come vi dicevo, ne prenderemo due. La prima è sulla prossimità di Dio, la seconda è sul fare giustizia di Dio. Partiamo dalla prima, la prossimità di Dio. Guardiamo in sé alla scena. Abbiamo il Battista che, appunto, battezza nel Giordano. Le persone andavano da lui, si riconoscevano pubblicamente peccatrici e peccatori e si facevano battezzare, cioè Giovanni le immergeva nell'acqua e le risollevava. Questo era solo un rito esteriore, cioè simboleggiava il desiderio della persona di cambiare vita, di morire alla vecchia vita entrando nell'acqua e di rinascere a vita nuova. Vi dicevo che però era solo un rito, un segno esteriore. La grazia nel cuore non agiva come nel battesimo cristiano. Gesù, infatti, con la sua passione morte e risurrezione ci ha meritato lo Spirito Santo e dunque quando una persona viene battezzata nella sua anima entra lo Spirito Santo, cioè la persona viene assimilata dalla Santissima Trinità, viene innestata in Dio come un rametto che viene innestato nel tronco e diventa partecipe della linfa. Questo è il battesimo cristiano. Ora, nel battesimo di Giovanni Battista non c'era ancora questo aspetto della grazia, ma c'era un riconoscimento pubblico del proprio peccato e del voler cambiare vita, di attendere l'avvenuta del Messia. A un certo punto il battista si trova davanti Gesù e capiamo bene il suo disorientamento che nelle parole che troviamo in Matteo è espresso dicendo, ma come, sono io che dovrei essere battezzato da te e tu vieni da me. Il battista è un po' in tilt, non si aspettava di certo questo tipo di Messia, lui lo aveva annunciato con tinte forti, come un ripulitore di aia, come uno venuto a punire i peccatori, a separarli subito dai giusti e invece si trova uno che si mette in fila tra i peccatori che si riconoscono bisognosi di perdono, desiderosi di cambiare vita. Partiamo proprio da qui. Dio che si fa nostro prossimo, cioè il Signore Gesù che si fa solidale con noi, uno di noi in tutto, fuorché nel peccato, lui che scende nel punto più basso per risollevarci tutti. Cosa ci dice questo esistenzialmente parlando? Che Dio non ha paura del nostro peccato, che Dio non si schifa di noi, anzi è venuto proprio a farsi carico di ciò che non va, del male presente nella nostra vita e offrirci in cambio la sua. Un mistero d'amore è meraviglioso. Noi tante volte tendiamo a nascondere tutto ciò che non va, che siano imperfezioni, limiti, peccati, abituati a cercare il nostro valore nel nostro riuscire, nel giudizio degli altri, desiderosi di apparire perfetti, adeguati, sempre al top, di nascondere le nostre mancanze di autostima, quante volte si gareggia nell'aver ragione, quante persone incapaci di chiedere scusa. Tante volte nascondiamo anche a Dio ciò che di grave abbiamo commesso, il nostro peccato, a volte perché lo banalizziamo, altre volte perché lo reputiamo troppo grande. Cosa ci dice questa prossimità di Dio? Che Dio non ha paura di ciò che non va nella nostra vita. Io sono venuto per i malati, non per i sani, dice Gesù. Lui è venuto proprio a prendere il nostro peccato e offrirci in cambio la sua vita. È venuto a farsi carico delle nostre piaghe e offrirci la sua guarigione. È venuto a prendere su di sé ciò che ci schiavizza e offrirci la liberazione. Che bello allora poterci aprire fino in fondo a Lui, lasciarci perdonare da Lui, lasciarci salvare da Lui, uscire dal delirio di autosufficienza, non rimanere rinchiusi nella prigionia di un perfezionismo sterile, non continuare a tenere, come si suol dire, armadi pieni di ossa, cioè gli scheletri nell'armadio, cioè nascondere anche a Dio ciò che non va, ciò che è sbagliato, ciò che è il nostro peccato. Dio è più grande, Dio non ha paura del nostro peccato. È venuto proprio per salvarci. Che bello allora potermi lasciare abbracciare da Lui, poter aprire il mio cuore in sincerità e donargli ciò che non va. In fondo è un po' l'esperienza anche che visse un grande santo come San Girolamo, uno che aveva una forte forza di volontà, uno che offriva a Dio tante cose, ma ancora non aveva forse fatto fino in fondo esperienza di questa tenerezza. E una volta il Signore gli si manifestò attraverso una rivelazione privata e disse Girolamo cosa mi offri? San Girolamo viveva in un eremo, lui una vita molto austera, tradusse la Bibbia in latino, quindi un uomo di grande penitenza. Allora Girolamo disse e poi ti offro, Signore, tutte le opere buone che faccio e poi, e poi, Signore, che ti devo offrire più? E, Signore, sorridendogli, Girolamo dammi i tuoi peccati perché io possa perdonarli. Ecco, la prossimità di Dio ci dice che Dio non ha paura di ciò che non va, non si schifa di noi, ma viene proprio per salvarci da ciò che non va, perché ci ama profondamente. Il fatto che Dio si faccia nostro prossimo e cammini con noi ci ricorda anche la bellezza proprio della gradualità, cioè il fatto che proprio nel camminare con noi Dio passo dopo passo ci aiuti a crescere, a migliorare. A volte questa crescita avviene anche tra una caduta e una rialzata in mezzo alle mille e una lotte che viviamo. Dio ci accompagna nel nostro cammino, ci aiuta a crescere e sa che non siamo degli interruttori, ma passo dopo passo ci porta dove Lui è, come Lui è. Cosa conta? Che ci lasciamo avvicinare, che non ci chiudiamo nella presunzione di bastare a noi stessi o nell'orgoglio di chi si sente a posto. E poi il secondo punto che vediamo brevemente è sulla giustizia di Dio. Qual è la risposta che Gesù dà al Battista? Lascia fare perché così adempiamo ogni giustizia. Questa è la risposta che Gesù dà al Battista che si rifiutava quasi di battezzarlo. Gesù viene per compiere fino in fondo la volontà del Padre. Viene per fare giustizia. Cosa vuol dire per Dio fare giustizia? Mentre per noi fare giustizia spesso e volentieri vuol dire solo punire il colpevole. Per Dio fare giustizia significa salvare il colpevole, riabilitarlo, fare in modo che il colpevole si possa rendere conto della sua colpa ed essere così salvato. Questo è meraviglioso ed è importantissimo perché anche nelle dinamiche quotidiane, dall'educazione dei figli fino alle pene dei carcerati, ciò che conta non è punire, ciò che conta è redimere, è salvare e aiutare la persona a prendere consapevolezza di ciò che non va perché la persona sia recuperata, perché sia salvata, perché possa, potremmo dire, rinascere a vita nuova. Questo vale per i conflitti nelle famiglie, vale per l'educazione dei figli. Il punto non è spiattellare in faccia agli altri l'errore o punirli per i loro misfatti. Il punto è che sia attraverso il dialogo, che sia attraverso una possibile privazione di qualcosa. Insomma, ognuno poi bisogna vedere caso per caso, ma il punto è aiutare la persona a prendere consapevolezza del proprio male, del proprio peccato, perché pentendosi possa ripartire, possa, potremmo dire, rinascere. Allora chiediamo al Signore la grazia di riscoprirne la prossimità nella nostra vita e di lasciarci davvero salvare da Lui, da Lui che è venuto a fare giustizia, cioè a salvarci, a redimerci, a renderci giusti, a renderci capaci di vivere all'altezza del suo sogno, cioè a vivere da figli di Dio, pace e bene.